lecce il piano l'interno a carlo no io vedi voi la prima volta 4 5 15 inizio l'olio il reggito l'olio non ho l'olio l'olio e' finita l'olio l'olio gira anche questo, questo segno giro perchè ci sono le vuote guarda che è peggio quando capita perchè si vede tutto nero? perchè ci ha scritto la batteria del controller una qualsiasi scarica con le cari controller tramite un caricabatterio USB? ma se un italiano, nederland, portoghese del fico, suomi, svenca, danca, danca diciamo in inglese così impariamo l'inglese siiii inglese impareremo l'inglese si si impareremo l'inglese si si impareremo l'inglese io vado bene l'inglese, si si ho sufficiente in più ma buono io sono distinto ma buono tu ti compri i professori vabbè ma quelli sono particolari ma che ti mangiare con me, eh? mi hanno spuntato un esitico sempre la verità ma vedete, ma scherzi, ma scherzi tu che cos'hai? ma siiii campo tu che cos'hai? 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 ti cos'hai? tu che cos'hai? ti cos'hai? Sì, c'è! Aiuto! Jay Sonic aveva cacciato i suoi amici di casa e si era talmente affleppato a cociuco che non ne voleva sapere niente. La madre l'aveva chiamato per andare a Cina, ma lui nulla, quando improvvisamente il suo cervello esplode. Quando un Enzo mi richiede... Jay Sonic! Jay Sonic! Vattene! 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 Devo fare la sua giocata per il specchio! Jay Sonic! Jay Sonic è infatti... Vattene! E ora come faremo? In quello stesso momento, Enzo Man stava facendo una ricerca importantissima. sul suo computer personale. Quando improvvisamente, mentre era assorto nei suoi pensieri, la testa li stava scoppiando e le orecchie le erano diventate rosse come i pomelli del frigorifero, all'improvviso questo succede, succede un fatto che lo sconvolgerà la giornata. E la ricerca non sarà mai portata a termine. Il telefono di Enzo. Sarà la madre che è partita per Genova e vuole sapere come sta? Coglioni! È un'emergenza. Il telefono mi chiama! Tan 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 tan... Enzo Man! Enzo Man! Enzo Man! Enzo Man! Enzo Man! Enzo Man! Il paradino della giustizia! Tan 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 Cosa starà facendo Enzomen per evitare che il suo cervello vada in trance? Mamma mia, è completamente impazzito! J-Sonic cerca di liberarsi per dargli il corpo di grazia. Attenzione! Oh mio Dio, gli vuole tagliare i capelli sicuramente. Sembra un parrucchiere assassino Enzomen quest'oggi. Si è munito del suo cappello per difendersi. Assessere a tanta violenza non ha prezzo. Enzomen sta facendo male. La pistola non ha colpi, Enzomen non può difendere. Una mossa che lascia immobile J-Sonic. È tutta l'umanità, tranne il commentatore del video. Guarigione! J-Sonic, dal suo stato di trance, era quasi guarito. Ma cosa è successo, Enzomen? Vai a chiedere scuse ai suoi amici, che ripartiamo dopo. Guardi. Ma chiederà scuse ai suoi amici? Sì. Non ho mai visto tanta violenza. Non ho mai visto tanta violenza su tecnici. Ma questo è proprio cattivo. No, sto muovendo. Ma io lo visco completamente fattivo. Io lo visco solo in maniera sana. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. No, io li ignorano. No, io non lo penso solo. Dai ragazzi. Scusate. Non volevo. Andatevi. Non potete fattire. Scusa, ti ti mangiare? Ehi, non ti percorrerò mai! No! Che sta parlando? Che sta parlando? Ma è una borghida una che fa? La borghida è piattata la borghida! Ma non ti percorrerò mai! 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 Non ti percorrerò mai! Ti percorrerò mai! Che è stato un borghida! E' il suo mezzo! E' il suo mezzo! Mettetevi fare i bolletti con lui! Mettetevi fare i bolletti con lui! Lui è stato solo un po' afflippato! Guarda, 3, 6, 4, ma non ce n'è più di! Ma guarda, non ti percorrerò mai! Ehi, non mi stai nascendo! Ehi, non mi stai nascendo! Ehi! Ehi! Cip! 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 Ehi! Cip! Poi. Ehi! 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 È usuale tra i piccini, non vi dovete preoccupare, anche se vi è stato male. È stato un errore. Non vi ricordate che la play season 3 fa tanto male? Io voglio bene! Io voglio bene! Io voglio tanto bene questa persona, io voglio tanto bene! Ricordate i piccini, non giocate mai troppo!